Si apre il sipario del teatro Regina Margherita di Caltanissetta partendo da Hamlet, liberamente ispirato al testo di William Shakespeare con l'adattamento di Alessandro Angelini e Antonio Prisco. In scena Giorgio Pasotti e Mariangela D'Abraccio è un cast che convince ed ipnotizza gli spettatori fino a trasportarli dentro la storia di Hamleto. Pasotti attraversa un'importante prova attoriale, fa emergere e rivive la battaglia interiore di Hamleto che ancora una volta nel tempo si impone come personaggio dalla psiche complessa e profonda. La regia di Tavassi lo pone proprio lungo la linea fisica e temporale all'interno dei contrasti anche profondi della psiche di Hamleto. Convince anche la scenografia, modulare ed essenziale. Al primo spettacolo di svelamenti in molti giovani presenti in platea, vista la possibilità del biglietto, che prevede un ingresso fino ai 18 anni a soli 6 euro. Come ha dichiarato l'assessore alla cultura Marcella Natale, una scelta del prezzo agevolato, voluta d'intesa, con il sindaco Gambino per coinvolgere i giovani e portarli in teatro a vedere gli spettacoli dal vivo. Prossimo appuntamento il 15 dicembre con decadenze di Bercoff. Dopo questo spettacolo così fresco e nello stesso tempo così profondo, penso che i ragazzi torneranno sicuramente con tanto piacere per gli altri spettacoli della stagione, perché è importantissimo avvicinare i giovani al teatro.